Amici telespettatori, buongiorno, ci troviamo sulla via Roma, prolungamento della via Roma, zona mercato a Merito Portosalvo. Oggi giovedì 19 novembre 2015, sono le 9.30. Come potete ben vedere dalle vostre immagini, la via Roma dopo la giornata del mercato di ieri viene ripulita millimetricamente dagli operai del comune di Merito Portosalvo. Per cui probabilmente entro qualche ora ritornerà ad essere nuovamente pulita. A differenza di quello che si vuole far credere, non è assolutamente vero che la via, prolungamento della via Roma a Merito Portosalvo vive nella sporcizia, a differenza di quello che viene assolutamente detto. Allora ci avviciniamo a un operario del comune e chiediamo buongiorno, intanto buon lavoro. Allora come procede? Ecco, come voi vedete stiamo cercando di mantenere il più pulito possibile. E' veramente, cioè se voi avete guardato è veramente uno splendore, guardate non trovate una carta, guardate quanto stiamo lavorando. Non so se è importante il nostro operato, ma alcuni dicono che non... Scusi un attimo se la interrompo, ieri c'è stato il mercato per cui si sa, come ben risaputo, che una volta che smontate le bancarelle si lascia sporco. Secondo noi si dovrebbe intervenire sui commercianti e far loro presente che devono assolutamente, prima di smontare le bancarelle, devono lasciare assolutamente la piazza, la zona mercato completamente pulita. Ma al di là di questo, considerando che lo smontaggio delle bancarelle finisce intorno alle ore 14, poi nel pomeriggio non ci sono neanche i tempi materiali per ripulire. Per cui il giorno dopo, la mattina, subito, già sono le 9.30, come potete ben vedere, è quasi tutto pulito. Sì, infatti il sindaco questo sta facendo, sta facendo una disposizione, una normativa dove lasciare vari cassonetti, vari bidoncini con i contenitori, con i sacchi neri per far raccogliere ai commercianti tutto il resto che lasciano. L'importante è che i commercianti ci aiutano anche, cioè collaborano con noi, ecco questo volevamo dire. Grazie, grazie per il vostro contributo e grazie per l'aiuto che ci date. È giusto dare l'informazione esatta di quello che succede nel nostro paese. Allora, noi vi ringraziamo, ricordiamo giovedì 19 novembre 2015, ore 9.30, zona mercato, prolungamento della via Roma a Melito-Portosalvo. Come potete ben vedere dalle vostre immagini, sta ritornando a splendere tutto nuovamente come il giorno prima del mercato.